Parte ufficialmente l'Iter per la gara d'evidenza pubblica per la distribuzione del gas naturale che in provincia di Avellino attraverso una rete di 1.541 km serve 434.000 abitanti. Al terzo tentativo i sindaci, chiamati a raccolta dal sindaco di Avellino Gianluca Festa, sono riusciti a mettere insieme la maggioranza qualificata con 84 presenze sul 117. Cosa si metterà in moto a partire da oggi? Da questo momento il comune di Avellino, che per la verità Opel EGIS era già stazione appaltante, ha ricevuto comunque l'imprimatur attraverso la bozza di convenzione che hanno sottoposto tutti i sindaci e che è stata votata all'unanimità da parte dei presenti. Quindi da questo momento la convenzione è operativa e quindi la stazione appaltante entra nel pieno delle sue funzioni per attivare il procedimento della gara d'ambito del gas. Non sarà però un Iter destinato a concludersi in tempi brevi, quello per arrivare alla definizione del bando di gara. Purtroppo la procedura delle gare di ambito, che raccolgono naturalmente molti comuni nei dati, è una procedura molto farraginosa per cui c'è anche il controllo dell'autorità sui valori di riscatto degli impianti. E questo naturalmente allunga molto i tempi. Dall'esperienza personale che ho mutuato fino ad oggi, sono nella commissione da parte della Valle d'Aosta, per andare avanti con una gara del genere passano mediamente 5, 6 o anche fino a 7 anni per arrivare alla pubblicazione del bando. La gara ad evidenza pubblica consentirà ai comuni di cominciare ad incassare la quota di proprietà della rete più complessivamente al regime e consolidare significativi risparmi per gli utenti. Ma è sul valore della quota di proprietà dei singoli comuni che si rende necessario un ulteriore passaggio con l'autorità per l'energia e il gas. I comuni devono obbligatoriamente, prima di arrivare alla pubblicazione del bando e quindi da domani, mettersi, porsi il problema di andare a valutare qual è la rete di loro proprietà e quanto vale ai fini tariffari. Se non che oggi come oggi c'è un problema perché l'autorità, a Rera per Rete ed Energia e Ambiente, prevede che i contributi pubblici, che poi sarebbero quelli che danno luogo agli asset di proprietà dei comuni, si degradino con una legge di degrado molto più lenta rispetto ai cespiti. E quindi i valori dei cespiti comunali sono molto abbattuti da questa normativa tariffaria. Io mi sono permesso stamattina, e il sindaco Festa ha preso l'iniziativa e immediatamente ha raccolto l'invito, a essere presente lunedì mattina nel comune con l'ingegnere Cicalese, per presentare all'autorità un'osservazione, atteso che in questo momento vi è un documento di consultazione tariffario pubblico, per cui Avellino come stazione appaltante, in nome di tutti i sindaci dell'ambito, possa presentare all'Arera un'osservazione circa le modalità di degrado dei contributi pubblici, che farebbe aumentare i valori degli asset dei comuni.